ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovissimo video oggi parliamo oggi oggi è l'8 dicembre Federico Petrini della leggenda mi vuole mandare a fare gli auguri a tutti quanti quindi ragazzi pensai positivo perché il natale sta arrivando io essendo stupido ve lo dico ho scoperto una cosa i miei amici mi hanno detto una cosa come faceva Maria di Nazareth ad essere incinta e doveva partire dopo solo 17 giorni e come faceva il santo angelo aveva aiutato ma poi una domanda no questo vedrò dopo vabbè ragazzi io voglio dire che io non è che preferisco sto natale perché poi in tv ci sono sempre certe cose natale qua però ci sono il cinema panettone dove c'è Cristian De Sica Massimo Boldi Massimo Grini vabbè tutti questi ragazzi che anche anche senza fare questi film invece a me piacciono tanto perché non mi piacciono i film di questo genere vabbè io vi mando un minuto io vi auguro un buon natale no ancora un po' per essere natale oggi è oggi è 8 oggi è santa madre no santa maria quindi io ho un grosso auguro a tutte le maria e io conosco una maria che abita in fune e vabbè per questo video ho finito di ho finito di parlarvi di parlarvi di stupizzazione della nostra festa di oggi oggi da oggi con te 17 giorni 17esimo giorno è natale noi ci becchiamo domani con un nuovissimo video poi ci bella cede ci bella tutti cướp gente o chiamatica rotto